Sono gravi ma stazionari alle condizioni della mamma di 34 anni ricoverata all'ospedale di Novara da sabato notte. Nel frattempo anche la suocera di 58 anni di Verbagna è stata trasferita all'ospedale maggiore. Anche lei è stabile, non sarebbe invece di pericolo di vita il suo bimbo di 20 mesi ricoverato in pediatria al Castelli. Si attende invece nulla ossa della procura per il funerale di Gianni Agosti, 54 anni di Cossogno, che invece è deceduto sul colpo. L'esame è ancora a disposizione della PM Laura Carrera. Il medico legale ha eseguito l'esame esterno. È il bilancio del terribile incidente avvenuto sabato sera in via Vittorio Veneto, sul ponte che da piazzale Flaim a Intra va verso Pallanza. Si attende ancora l'esito degli esami tossicologici sul 24enne di Vogogna, la guida dell'auto finita sulla famiglia che camminava sul marciapiede. L'alcol test era negativo e il ragazzo avrebbe detto agli agenti della Polstrada di aver perso il controllo a causa di un colpo di sonno. È stato denunciato per omicidio stradale e lesioni. Ora tutte le preghiere e le preoccupazioni sono per le due donne che lottano per la vita a Novara. MS, 58 anni, parrucchiera e la compagna di Agosti. La giovane mamma di origine britannica vive a Miami con il figlio della donna e il loro bambino di 20 mesi. Era venuta a Verbagna proprio per portare il nipotino a trovare i nonni. Sabato erano usciti per una passeggiata. Il bimbo era nel passeggino. La tragedia ha sconvolto tutta la città. Da ieri tante persone hanno lasciato fiori sul luogo dell'incidente.